Forse il genere conta, essere nati o diventati, donna o uomo conta, o forse non conta nulla. La prima volta che ho incontrato gli occhi azzurri di Adele è stata sulla soglia di casa sua, in via dei Pettinari, qui a Roma, alcuni anni fa. In realtà servirebbe una serata a parte per raccontarvi l'intera vita di Adele. L'infanzia a Reggio Calabria negli anni 30. Il traghetto giornaliero per recarsi all'Università di Messina, poiché in quegli anni in tutta la Calabria non c'era una sola facoltà. La laurea cum laude in giurisprudenza è praticamente immediato il diritto ad accedere alla carriera di magistrato, eravamo prima del 63, in quanto donna e quindi, cito testualmente, inadatta al giudizio e all'equilibrio e soprattutto soggetta alla capacità di commozione. Ora, per quel che vale, spero non la perderemo mai, la capacità di commuoverci. E neanche di lottare per quello in cui crediamo. Adele, infatti, si trasferisce a Roma, prosegue gli studi e diventa giornalista, una delle pochissime donne giornalista alla fine degli anni 50, insieme a Camilla Cederna e Oriana Fallaci. Scrive, lavora, va a caccia di incarichi e notizie. Tollera l'obbligo di firmare con pseudonimo maschile i primi articoli. Riceve vagonate di querele e affronta cause diffamatorie e diffamanti, vincendole sempre. Le dimissioni per solidarietà a colleghi licenziati ingiustamente sono tante e i licenziamenti subiti per aver scritto articoli scomodi o aver rifiutato le avance del direttore di turno altrettanti. La carriera di Adele, attraverso le più importanti testate giornalistiche italiane, va dagli anni 60 fino al 2015, praticamente l'altro ieri. Per avere un'idea della vita rocambolesca che ha avuto Adele, vi invito a leggere uno dei suoi libri più belli e ironici, una quasi biografia lavorativa, dal titolo 9 dimissioni e mezzo, che dettaglia con lucidità, indubbiamente ironia, e maestria ogni fatica incontrata, ogni battaglia vinta o persa e il prezzo alto che avere una deontologia professionale richiede. Adele Cambria non è rinomata come altri giornalisti del suo tempo. Sono convinta che fra voi qualcuno l'ha sentita nominare stasera per la prima volta. È stata una donna che non ha fatto scalpore, non ha spintonato per fare carriera, non ha fatto le scarpe a nessuno. È stata sobria, di una sobrietà elegante e paziente. Vorrei poterla definire donna ad altri tempi, ma sarebbe il più grave torto che potrei farle, poiché nessuna più di lei ha saputo essere contemporanea. Contemporaneo è colui o colei che appartiene, vive e opera nell'età presente. Adele, infatti, è stata madre quando essere madre significava necessariamente smettere di lavorare. Ed è stata lavoratrice quando lavorare significava necessariamente trascurare i figli. È stata moglie ed ex-moglie. È stata femminista quando il diritto all'autodeterminazione della donna non era nemmeno preso in considerazione. È stata direttrice responsabile del quotidiano Lotta Continua negli anni 70. È stata cofondatrice della Casa Internazionale delle Donne di Roma, cofondatrice del teatro La Maddalena, è stata parte della redazione della rivista F, prima rivista femminista, ha recitato in due film di Pasolini, è stata autrice di 14 libri e centinaia di interviste. Questa era Adele, sempre sul pezzo e contemporanea. Quando ero incinta di mia figlia, ho trascorso l'estate a Roma, a casa di Adele, per lavorare insieme all'editing di un libro. La mattina mi alzavo e Adele, ovviamente, era già sveglia. Era già stata in edicola, passando dalla scala di servizio per non rischiare di svegliarmi, e aveva acquistato i tre quotidiani che giornalmente acquistava, La Repubblica, Il Messaggero e L'Unità. Li aveva già letti, sottolineato a matita parole e passaggi importanti, e li aveva monticchiati sulla catasta di riviste dei giorni precedenti. La trovavo in salotto, con la radiolina accesa infilata nella vestaglia, che ascoltava la rassegna stampa, bevendo una tazzina di caffè. Sorrideva e mi diceva, buongiorno, care, a me alla pancia, ora mettiamoci al lavoro. Il ricordo che ho di quell'estate romana è fatta di gelati al limone e risate di Adele. E ora che Adele non c'è più, mi manca. Soprattutto mi manca la sua capacità di essere contemporanea e umana. Credo sia questa, per me, la direzione da seguire. Contemporanei e umani è l'insegnamento di Adele. Gli stigmi da smantellare oggi può darsi non siano gli stessi di quando l'era una giovane donna. Ma sono convinta che se non affrontiamo ora ciò che ci fa paura, queste angosce diventeranno inviolabili e furbescamente già stanno cambiando nome. Bisessuale, intersessuale, transgender, o uscendo dalla questione di genere, schizofrenico, musulmano, carcerato. E ancora, femminicidio. Gender pay gap. Gli ussoli. Diritto di voto agli stranieri, che così tanto stranieri poi forse non sono. Inclusione di persone disabili in un mondo fatto su misura per chi ama definirsi normale. E poi tanto normale, forse non è. educazione di genere a scuola e riconoscimento sostanziale di tutte le confessioni religiose anche nel mondo del lavoro. Ho avuto l'occasione di conoscere un'azienda toscana che ha fatto una scelta decisamente inclusiva e innovativa. ha scelto di lasciare a casa, nella giornata del venerdì, i propri dipendenti musulmani. Venerdì, giornata di festività islamica. E di chiedere a loro la possibilità di lavorare la domenica. Questo ha fatto sì che l'azienda restasse aperta un giorno in più, quindi sette giorni su sette, poiché i dipendenti musulmani coprivano il turno domenicale. E' stato un lampante vantaggio per tutti. Azienda, dipendenti, clienti, fatturato. Questo per dirvi che la diversità porta anche ricchezza. Mi permetto di aprire questo argomento perché mi occupo di includere le diversità nel mondo delle aziende. E le aziende sono mondi, e mondi influenti, che possono spostare l'ago della bilancia nelle scelte globali. Possono, ad esempio, concedere un congedo di paternità più lungo di quello accordato dall'attuale legislazione. E possono, addirittura, concederlo a una famiglia formata da due papà. Possono e devono abbattere le barriere architettoniche per includere le diversità nel luogo del lavoro. Possono avvicinare culture distanti e talvolta antagoniste per farle lavorare insieme su un obiettivo comune. Del resto, esiste un solo colore di pelle tollerabile? Un'abilità più normale delle altre? Un credo più giusto di un altro? Un amore più appassionato di un altro? E soprattutto, ha senso porsi queste domande quando gli individui sul pianeta sono sette miliardi e mezzo e ciascuno ama a modo proprio. Le lingue sono quasi sette mila. Le lingue parlate sono quasi sette mila. Ci sono alfabeti formati da settantaquattro lettere e alfabeti formati solo da undici lettere eppure comunichiamo. Le sfumature della pelle umana possono variare da completamente nero a incolore con tutto il ventaglio che ci sta nel mezzo. Ho letto un articolo una volta che elencava i 46 modi che esistono per sorseggiare un caffè. Era italiano, ovviamente, l'articolo. Ho scoperto che sul pianeta ci sono 140 mila varietà di riso. E a proposito di riso, non troverete due persone che scoppiano a ridere allo stesso modo. We Fly Team è una pattuglia aerea civile italiana ed è l'unica al mondo in cui due dei tre piloti sono disabili. Alessandro Paleri, leader, con oltre 2000 ore di volo all'attivo, è tetraplegico. E Marco Cherubini, gregario di sinistra, con 1800 ore di volo all'attivo, è paraplegico. Entrambi non possiedono l'uso delle gambe, eppure volano. Pilotano i loro aerei ultraleggeri con dei comandi ideati e realizzati dallo stesso Alessandro che, fra l'altro, è anche ingegnere aerospaziale. E allora? Gettiamo lo sguardo avanti e immaginiamo nuove possibilità. Manca poco a che il primo disabile possa gravitare nello spazio o un cinese diventare sindaco di Prato o una donna presidente degli Stati Uniti. E manca poco perché si smetta, finalmente, di dire a un bambino che piange non fare la femminuccia e che possa ricevere una cucinetta in regalo se è questo il suo desiderio. Manca poco per avere infermieri di colore negli ospedali e non solo nelle serie TV e perché le donne chirurgo che diventano primario superino l'attuale indegna soglia dell'1%. Manca poco al mondo del futuro in cui la percezione di diverso sempre più sfocata finirà per dissolversi del tutto in una contemporaneità nuova fatta di condivisione e relazioni. Oggi siamo tutte e tutti Adele. Lo siamo quando non ci fermiamo davanti a un no, quando scaviamo alla ricerca di una risposta e quando non ci fermiamo davanti al fatto di essere donna, uomo, trans, gay, anziano, malato, disabile, musulmano, ebreo. La strada l'unica per l'evoluzione dell'umanità è lasciarle interagire queste differenze vitali, inaspettate, ma insopprimibili differenze che costituiscono il nostro essere unici e uniche. Grazie.